Grazie, con questa mozione vorremmo riportare l'attenzione sulle attività sportive previste lungo gli aggini del Tevere. È un ambito di attività della commissione che abbiamo avviato già dall'anno scorso, abbiamo effettuato una commissione sopra luogo all'altezza del Ponte della Musica, abbiamo effettuato un'ulteriore discesa lungo il fiume del Tevere e diversi incontri con le associazioni che sono attive per quanto riguarda la definizione del contratto di fiume, quindi tutte le associazioni che aderiscono ad Agenda Tevere e le varie istituzioni che fanno parte del bacino del fiume, quindi tutte le quattro regioni interessate dal corso del fiume, in particolare ovviamente la Regione Lazio, che nel corso degli ultimi mesi ha intrapreso degli interventi, ha messo in campo degli interventi, ad esempio come una pulizia straordinaria degli argini, e per quanto riguarda gli argini all'altezza di Monte Marconi, già dall'anno scorso questa amministrazione si è posta l'obiettivo di riqualificare e individuare una zona per poter realizzare un'area per fini sportivi, quindi con tutte le attività che si possono realizzare sulla spiaggia, quindi beach tennis, beach soccer, beach volley, e in collaborazione con i Lazio e con tutte le federazioni e discipline sportive interessate, vorremmo realizzare appunto questo progetto, così come avviene a Parigi, esiste una spiaggia attrezzata, in varie capitali e grandi città europee, la valorizzazione dei corsi d'acqua, anche dove non siano balneabili, ecco come quello del Tevere, è possibile attraverso le attività sportive, quindi vorremmo sollecitare appunto l'ufficio di scopo speciale Tevere che è stato costituito l'anno scorso e che sta lavorando a questo progetto a finalizzare tutti questi sforzi entro i tempi necessari per sfruttare la stagione che è in arrivo e quindi con la mozione diamo una scadenza entro la quale vorremmo vedere realizzato questo progetto allo studio da diverso tempo. Grazie